Non hanno mollato, mai, hanno messo in campo determinazione, voglia e alla fine la vittoria è giustamente conquistata quando fai così. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? Questa è una vittoria che vale doppio, la capacità di recuperare lo svantaggio e ribaltare la partita darà una grande iniezione di fiducia alla squadra anche per il proseguo della stagione. È finito il tempo a nostra disposizione, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie a te Fabio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.